Barone Vassallo, siamo al 24 marzo 2024. Voglio aprire un piccolo capitolo sull'età media di coloro che ci lasciano in Italia e magari rivederlo tra qualche mese in modo di renderci conto un attimo della situazione. Andiamo a vedere l'età media delle persone. 103, 86, 89, 67, 85, 88, 100, 72, 84, 58, 66, 80, 75, 94. Voglio aprire questa nuova indagine per capire poi tra 5-6 mesi come si evolverà la situazione nel nostro paese. Nel frattempo possiamo fare in questa Domenica delle Palme una preghiera per questi defunti e ci vediamo domani. Ciao a tutti.